Ciao da Nicoletta, ho creato un videocorso sull'autostima. Perché autostima? Quante volte ci accade di fare le scelte sbagliate perché non crediamo di essere all'altezza? O quante volte prendiamo decisioni errate perché non ci sentiamo abbastanza, perché abbiamo poco coraggio, perché abbiamo paura? In qualsiasi dove, in qualsiasi ambito, l'autostima è la parola chiave, è il cantine di ciò che siamo e di come ci comportiamo e delle scelte che mettiamo in azione. Ecco perché in queste tre ore di videocorso impari strategie davvero semplici, immediate, per essere più consapevole di quali sono i tuoi punti di forza, i tuoi punti di debolezza e come poter lavorare su questi. Impari delle strategie immediatissime per frantumare questi assorili del passato che ci fanno ancora male, perché spesso la nostra autostima è minata dai venti accaduti, che ne so, anche all'asilo, alle scuole elementari. Pensa solo al fatto di aver avuto magari un compagno che ci prendeva in giro o qualcuno che ci diceva non sei all'altezza, non sei abbastanza. E in modo ricorsivo questa cosa si ripete di anno in anno e ci porta a fare delle scelte poco congrue con il nostro reale potenziale. Impari davvero delle strategie utili, dal collasso d'ancore ai cinque elementi e tante altre. Ci tengo perché con questo percorso e con questo videocorso entrerai in quello che io chiamo core confidence, che è proprio il cuore dell'autostima. Ti aspetto e fammi sapere come ti trovi e cosa accade, perché può accadere davvero tanto. Ciao!